in Italia e allora andiamo a Lampedusa dal nostro inviato Matteo Parlato per capire qual è la situazione adesso. Gli ultimi sbarchi ieri, le condizioni medie non sono più favorevoli, ma sempre ieri c'è stata una notizia molto importante. 500 delle persone che erano ospitate all'interno del centro qui di Lampedusa sono state spostate in altri posti in Italia. Allora, Sindaco, lei come giudica questo fatto, lo spostamento di 500 persone? Il governo sta operando bene, il ministro degli interni ha dimostrato di essere veramente vicino all'isola, di avere compreso come prevenire lo scoppiare dell'emergenza, perché voglio dirlo, l'emergenza non c'è, non c'è mai stata, non c'è, non è nei numeri, perché ancora sono numeri molto bassi, non è nelle cose, perché i viaggi e la speranza che arrivano in estate sono come le rondini che arrivano in primavera, è normale per noi. L'isola è preparatissima per questo, nel soccorso e nell'accoglienza. L'unica cosa, siamo leggermente più impreparati del passato, perché abbiamo una ricettività inferiore al centro, abbiamo solo 250 posti detto, e questa è la ragione per cui i trasferimenti negli altri centri d'Italia devono essere più veloci e più efficienti, e mi pare che da ieri ci siamo. Un'ultima considerazione, se mi permettete, devo dire che la macchina di accoglienza funziona molto bene, ci sono due circuiti paralleli che non si incontrano mai, da una parte c'è il valser delle persone che arrivano, ricordiamoci, persone in fuga dall'Africa soprattutto, ma anche dal Medio Oriente, che arrivano qui a Lampedusa, il posto più meridionale d'Europa, e dall'altra c'è il grande flusso di turisti. Chiunque venga qui a fare il turista non si accorge di questo valser, veramente, di arrivi e partenze che è in questi giorni qui a Lampedusa. E se non avete altre domande, da Lampedusa vi risolviamo la lì. E questo ci fa molto piacere, grazie.